eccoci insieme a tifa mentre andiamo in giro a fare le missioni secondarie del del settore 7 mi manca la minaccia del cimitero e il secuggio randaggio facciamo il secuggio randaggio andiamo in ordine di incarico c'è tanti step questo però non so se non ho capito se è la difficoltà o i passi della missione perché all'inizio pensavo fosse la difficoltà invece credo siano solo i vari vari step da seguire ok quindi dovrebbe essere qua soldi come stiamo messi scusa i 500 non c'è una di ragazzo andiamo fortuna non sono tantissime le missioni a quanto ho capito ok 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 un certo giocatore mi ha detto che hai pagato una visita grazie per aiutare gli aiutare ciò che succede c'è un altro lavoro che vorrei darei ora che vedo che puoi capire in una combina abbiamo un vero di ucciderio che vedete un ucciderio rapido potremmo 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 a volte le persone parlano d'ora il shinra muck va fuori l'ultima sconfile fu a Scrapp Blv credi che sei a questo? lo avrò sei un saluto sei un saluto credo di qualcuno qui qui non è un'esperienza andiamo prenditi Vai tranquillo Ci penso io Anche i dialoghi si riferiscono a missione È bella sta cosa Eccoci qua Stiamo messo bene, no? Sì Sembra che c'è pure A notti fa Come se è una magia di attacco Siamo di qua Me l'ho segnato, eh? Qua Oh Scusione che non si rifiuta mai Ok, non c'è però Ma forse mi segna solo la zona Ma è da trovare Ma c'è il giretto Proseguiamo Spettacolo Eccolo Cosa sta Aia Aia Oh, cazzo Allora, facciamoci Analizziamolo, eh Ghiaccio Come sa che avevo messo proprio ghiaccio Addito, eh Intanto proviamo questo Pita invece li dobbiamo affaffare Dio Ah, ma cazzo male Ah, ma cazzo male Ah, scappa Maledetto Ah, ma cazzo male Mi ha curato un cazzo Ok E' Ah, ma ha aperto la nuova zona? Si è incazzato ancora di più, quindi, eh? Eh, io rifaccio lo scan, eh? E' sempre uguale. Ah, queste sono le sue. Oh, oh! Allora... Oh, ti fa salta male, cazzo. Oh, ti fa salta male, cazzo. Cazzo, ma ha fatto malissimo. Aspetta, aspetta. Tanto curati. Venena. Facciamoci prendere una pozione. Allora, renditi una pozione pure tu. Oh, non ho fatto. È a te. È il mio turno. oh 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 ah cazzo due barre ne servono aspetta come cura pure tisa prima oh è già scaduto il tempo oh se non riesco a schivare cazzo limit bravissima cazzo cazzo oh è stato tosto questo no fammi girare un po' qua è stato tostino questo ah non c'è più niente ok torniamo a più eh in teoria però ah pure le i vari step fanno i vari step fanno parte anche le chiacchierate pensavo che si è trasformata sei volte ok abbiamo fatto anche questa dai non 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 potresti credito non è una giornata una Sono sicuro che c'è molti segreti che non lo so Sì, è vero Hai il bastardo, è sufficiente per me Soldi, soldi, soldi Mi ha dato i soldi Cazzo meno, ho un sputo Ok, anche questa è andata Mancherebbe solo l'ultima Sembrava ne mancava due No, manca solo l'ultima Allora direi che salvo E poi ci facciamo anche l'ultima Sperando che non sia troppo Difficile Non so se dovevo affrontarle Anche con Barret Oppure bastiamo noi due Ma intanto ci salutiamo Ciao Ah, guarda polvere per terra Spettacolo Ciao Grazie a tutti